Uomini e donne, Maria De Filippi furiosa con un opinionista, posto a rischio Uomini e donne, Maria De Filippi è arrabbiata con un opinionista Uomini e donne, Maria De Filippi è arrabbiata con un opinionista Maria De Filippi è arrabbiata con un opinionista di uomini e donne A farlo sapere è il settimanale Oggi che, nell'ultimo numero in edicola, parla di una conduttrice parecchio dell'Usa dietro le quinte del fortunato programma di Mediase Chi è l'opinionista in questione? Tina Cipollari, Gianni Sperchi, Mario Serpa, Jack Vanoriotti, Cansini, Alberto Dandolo Il giornalista, che ha lanciato lo scope, ha preferito non fare nomi ma dei dettagli emersi è facile indovinare di chi si tratta Inoltre, pare che la persona in questione non tornerà più nelle prossime puntate del format che, come è noto, riprenderà il prossimo lunedà, 8 gennaio Anche se le registrazioni del trono classico e del trono over sono andate avanti con regolarità tra Natale e Capodanno Nei corridoi degli studi Elios di Via Tiburtina, a Roma, gira insistente la voce, che Maria De Filippi sia molto delusa da un opinionista fisso, ma di seconda linea, di uomini e donne Pare che il ragazzino abbia le ore contate Di chi stiamo parlando, ha fatto sapere Dandolo sulla rivista diretta da Umberta Brindani, con Chiacos, arrabbiata la moglie di Maurizio Costanzo tanto da farlo fuori dalla sua trasmissione, chi vivrà, vedrà Grazie a tutti Grazie a tutti